Riconferme di eccellenza per i laghi di Santa Crocina al Pago e del Misa Sospirolo, che anche quest'anno superano a pieni voti i test di qualità delle acque di goletta dei laghi e si aggiudicano nuovamente anche le 5 vele di Lega Ambiente e Touring Club. Le 5 vele consegnate da Lega Ambiente e da Touring Club italiano dimostrano come la qualità non solo delle acque ma anche dell'accoglienza turistica, della tutela dell'ambiente naturale, delle attività che vengono proposte dalle aziende turistiche del territorio rispondono ai criteri di sostenibilità ambientale e di accoglienza attente al territorio a valorizzare quello che è un ambiente sano, confermato anche nella sua qualità delle acque dalla campagna di goletta dei laghi. Un riconoscimento a 5 stelle, anzi a 5 vele, che si basa su un risultato fondamentale, lo stato ottimale delle acque dei due laghi, certificate delle analisi compiute nei punti di balneazione da goletta dei laghi, che da 19 anni gira l'Italia per verificare la salute dei bacini lacustri. Una certificazione che si affianca a quella istituzionale condotta da ARPAV. Ormai ci stiamo consolidando per quanto riguarda i laghi su ottimi livelli di qualità dell'acqua. Abbiamo qualche criticità sui fiumi dovuta anche ai fenomeni meteo estremi che a volte mettono in difficoltà i depuratori e quindi possono causare qualche problema dal punto di vista dell'inquinamento delle acque. Però per quanto riguarda invece i bacini lacustri diciamo che i dati sono molto positivi. La promozione di goletta dei laghi e le 5 vele si confermano così un riconoscimento per la qualità dei laghi e per l'accoglienza, ma anche uno strumento per spingere l'amministrazione a fare sempre di più e, soprattutto, una certificazione e un richiamo per tutti quei turisti alla ricerca di luoghi di qualità. Con questo abbiamo la conferma che quello che stiamo facendo è nella direzione corretta. Sappiamo anche che dovremo fare di più e migliorare alcuni aspetti e dare la possibilità al turista e anche ai sospirolesi, non dimentichiamo loro, di usufruire del lago nel miglior modo. È fondamentale per una programmazione turistica avere questo riconoscimento in quanto ci dà sia la possibilità di avere il riconoscimento della purezza dell'acqua oltre che a quello dei servizi. Quindi un turista vedendo questi due fattori e soprattutto vedendo anche le 5 vele può capire che qui è nel posto giusto per godersi le ferie.